I giardini di Rosciano li conosciamo in molti, per la maggior parte di noi non residenti li godiamo e frequentiamo d'estate, specialmente in occasione della festa del parco. In quell'occasione i giardini sono tirati a lucido e l'erba perfetta ed il merito è tutto dell'associazione Rosciano Insieme, che si occupa, grazie ad una convenzione con il comune, del verde pubblico di Rosciano, non solo del parco e non solo per quell'occasione, ma tutto l'anno, ma anche quindi delle rotonde e di altri spazi pubblici, mantenendo grazie all'opera dei volontari dell'associazione uno stato di decoro e di pulizia di oltre 30 ettari di verde che gestiscono grazie ai loro mezzi. Ma ora quest'opera è a rischio perché la convenzione è scaduta ed il rinnovo in forse, in base ad altre considerazioni sulla gestione di tutto il verde pubblico della città, che l'amministrazione sta facendo in questi giorni, con l'affido, forse, ad altre cooperative sociali o ad altro soggetto pubblico per la manutenzione del verde. Il comune ci ha detto che lo facciamo, lo facciamo, sono passati due mesi, arrivano praticamente delle telefonate all'associazione dicendo ma perché non tagliate più l'erba anche nella rotatoria davanti all'ortofrutticolo, che praticamente i ciuffi sono anche fastidiosi per le macchine. A questa gente noi glielo spieghiamo, ma molta gente non ne ha conoscenza, dice Rosciano Insieme, taglia l'erba quanto vuole, praticamente scaricano la colpa a noi, come se noi non facessimo più quel servizio che abbiamo fatto per dieci anni. Ma è la giunta comunale che pare che ci siano problemi per i 5 mila euro che noi prendiamo annualmente per il taglio dell'erba, che è oltre 30 mila metri quadri, per tutto il taglio dell'anno, quanto poi dopo ci accorgiamo che vengono spesi oltre 100 mila euro per passaggi. Nel caso non vi rinnovassero l'accordo, la convenzione, siete un po' in difficoltà perché avete acquistato dei macchinari, degli strumenti? Per fare questo lavoro abbiamo dovuto comprare dei mezzi idoni, abbiamo comprato dei cubot, delle macchine agricole da 15 mila euro, abbiamo comprato dei tagliaerba, tagliasiepi e tutto questo che oggi a noi non servono più. Se non abbiamo più la possibilità di fare questo taglio dell'erba dovremmo venderli, ma a questo punto vanno svenduti.